generale c'è una flotta di caccia stellari che esce dall'iperspazio nel settore 4 convogliare tutta l'energia allo schermo protettivo dobbiamo fermarli fino ad evacuazione totale prepararsi a un attacco terrestre cosa c'è generale? Milor la flotta è uscita dall'iperspazio lo schermo sonda registra un campo energetico che protegge completamente la zona del sesto pianeta Oth abbastanza forte da deflettere ogni bombardamento i ribelli ci hanno scoperto l'ammiraglio Assel è uscito dalla velocità della luce troppo vicino alla loro base lo ha fatto per prenderli di sorpresa è maldestro oltre che stupido generale prepari le sue truppe per un attacco terrestre si Milor Lord Fener la flotta ha abbandonato l'iperspazio e ci prepariamo a... lei mi ha deluso per l'ultima volta ammiraglio comandate Piet si Milor si prepari a fare atterrare le truppe oltre il loro campo energetico poi disponga la flotta in modo che niente possa lasciare il sistema ora è lei il comando ammiraglio Piet grazie Lord Fener grazie Lord Fener grazie Lord Fener